Trestina e Sansepolcro si affrontano al Bernichi in palio, punti importanti, punti salvezza. Entrambe le formazioni bianconeri del Sansepolcro senza il capitano Catacchini, i verdi nell'occasione del Trestina senza il capitano Morvidoni. Il gioco ovviamente ne risentirà. La prima occasione capita al quinto minuto a Damiano del Sansepolcro che vince un rimpallo. Va alla conclusione però sull'esterno del rete. Un momento di stanca che dura oltre 20 minuti. Per vedere l'azione successiva bisogna attendere il 32esimo quando il Trestina si fa pericoloso con Bellante che entra in aria, evita i difensori. La palla è diretta in porta ma David è bravo e riesce a deviare. Occasione gol per il Trestina. Due minuti dopo ancora il Trestina con il cross di Galozzi e deviazione aerea di Ridolfi che però non trova lo specchio della porta. Un minuto dopo ancora il Trestina è pericoloso con la conclusione di Enrico. Si distende il portiere del Sansepolcro David e blocca. Al trentasesimo c'è la punizione di Alagia con Ridolfi che di testa in alleggerimento spedisce la palla sulla parte superiore della traversa. È il rischio più grosso corso dal Trestina. Al 44esimo la punizione di Villanova per il Trestina con il portiere David che non si lascia sorprendere e blocca. Si va al riposo sul pareggio e la ripresa sarà ancora meno ricca di emozioni rispetto al primo tempo. Al quinto minuto pericoloso il Trestina con Bellante. Il suo diagonale è deviato in angolo da David. Anche questa è stata un'azione molto pericolosa per la formazione del Trestina. Al quindicesimo ci pensa e ci prova Damiano che innesca una pericolosa mischia risolta dalla difesa del Trestina con doppio intervento del portiere della formazione tristinese. Infine al 31esimo ancora è il Trestina con una conclusione di Villanova dalla distanza. Conclusione centrale che David non ha difficoltà a bloccare. Finisce 0-0. Da quello che abbiamo capito nella sua già esposizione il Trestina avrebbe vinto ai punti. La matematica è un'opinione. Il nostro portiere Cosimetti non ha mai preso una palla, un tentativo d'autogol messa di mattia, un colpo di testa buttato sulla traversa ma su un pallone. Mentre David al di là di aver centrato diverse volte il specchio della porta con Villanova ma in due occasioni è superato. Una su Bellante in primo tempo, una sul secondo tempo sempre su Bellante. Gol quasi fatti cambiava la partita. Cioè obiettivamente quindi penso che i punti il Trestina meritava ampiamente la vittoria. Io e vostri colleghi ho definito il punto della paura perché in questo momento con la situazione di classifica che abbiamo a questo punto del campionato noi scendiamo un campo con frena mano tirato, con la paura di sbagliare e come sempre succede quando giochi che non hai la testa sgombra hai paura di sbagliare e sbagli. Quindi ecco non è stata una gran partita. Cioè nonostante i ragazzi hanno dato l'animo in campo, si è visto, hanno fatto tutto quello che erano in grado di fare. Ovviamente l'assenza di Catacchini, di Mortaro, si sono fatte sentire però ecco chi li ha sostituiti secondo me ha fatto il proprio dovere. In questo contesto comunque sia noi in qualche occasione per far gol l'abbiamo avuta perché comunque sia la traversa è stata colpita. secondo me c'è un rigore abbastanza clamoroso su Alagia che l'arbitro non ha visto quindi qualcosina abbiamo creato. Certo in altri momenti probabilmente questa squadra creerebbe di più.